buonasera a tutti e bentornati sugli schermi di casa del sole tv noi abbiamo bisogno della vostra partecipazione e del vostro sostegno per migliorare la qualità e anche la quantità dei nostri telegiornali delle nostre interviste dei nostri approfondimenti e dei nostri speciali e ci potete sostenere ne abbiamo bisogno e lo chiedo veramente sinceramente col cuore potete sostenerci dalla nostra pagina web del sito www.casadelsole.tv barra sostienici e scegliere una delle opzioni di sottoscrizione o un contributo volontario come volete in ogni caso continuate a stare con noi e a partecipare insieme a noi grazie e siamo qui con un gradito ospite docente di letteratura latina medievale e umanistica all'università federico secondo di napoli giuseppe germano buonasera giuseppe buonasera a tutti grazie per l'invito giuseppe vorremmo che tu ci aiutassi a capire quali sono i valori dell'europa perché se ne sente continuamente parlare anche nel mainstream ma la realtà è che si usa il PNRR per produrre armamenti e nel migliore dei casi stiamo rotolando verso un baratro economico e culturale e al contempo si sente una gran propaganda anche da chi si oppone alla cancellazione della cultura e alla guerra e ad altro sembra che tutti abbiano un po' le idee confuse e tu insendi letteratura latina medievale umanista e nessuno meglio umanistica e nessuno meglio di te può chiarirci le idee sulle nostre radici culturali qual è il messaggio dell'umanismo giuseppe? Grazie di questa domanda Jeff è una domanda molto interessante e anche complessa però cercherò in qualche modo di sviscerare l'argomento in modo spero da rendere chiari anche gli sviluppi attuali di questa espressione umanesimo perché questa è un'espressione chiave del nostro presente ma questa espressione affonda naturalmente le radici molto lontano nel passato e anche interessante questo concetto delle radici culturali dell'Europa perché si fa un gran parlare delle nostre radici culturali di quei temi di quei credo che ci ci uniscono che uniscono gli stati della comunità europea e diciamo gli studiosi i giornalisti e i vari intellettuali in qualche modo si accapigliano fra di loro per stabilire poi quali siano le reali radici dell'Europa il fatto secondo me che non non ci siano delle delle radici uniche e chi vede per esempio il la radice più importante nel cristianesimo chi nella cultura greco romana chi nel nei concetti filosofici dell'occidente insomma probabilmente tutte queste visioni sono 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 vere al contempo e sono diciamo così tutte impegnate nella sono state impegnate nella formazione di questa di questa nostra cultura occidentale che poi è stata esportata anche oltreoceano sia negli stati uniti d'america nel canada nell'australia insomma comunque in tutto quello che noi chiamiamo mondo occidentale e che presumiamo che sia il centro di gravità di tutto l'universo insomma vabbè comunque al di là di questi di questi problemi cerchiamo di focalizzarci su certi problemi per me ecco una parola chiave è quella di umanesimo anche perché questa parola ritorna con una certa insistenza oggi anche attraverso un composto da da che suona anche un po sinistramente il il transumanesimo o il postumanesimo naturalmente queste queste due espressioni hanno a che fare con l'umanesimo ma vediamo in che modo intanto io partirei proprio dall'origine per per capire esattamente con quali concetti abbiamo a che fare innanzitutto potremmo dire che l'umanesimo antelitteram cioè questa la dottrina per la quale si pone l'uomo al centro dell'universo ma non al centro dell'universo del cosmo ma al centro diciamo così della del giudizio percettivo cioè quindi un umanesimo filosofico cioè un umanesimo che 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 prevede che che l'uomo sia misura delle cose che giudica ripete le sue origini dal dal quinto secolo avanti cristo con un filosofo sofista protagora protagora appunto affermava che l'uomo è misura di tutte le cose di quelle che sono in quanto sono nella misura in cui non sono questo che sembra uno scioglilingua che c'è rimasto in un frammento di questo filosofo è un po il centro della diciamo così della cultura umanistica di tutti i tempi è stato diciamo così una grande intuizione dell'antico filosofo della nell'atene del quinto secolo avanti cristo perché perché fino a quel momento la filosofia presocratica aveva concentrato la sua attenzione sul sul cosmo l'origine del cosmo da dove si fosse generato cioè su qualche cosa diciamo così di estraneo di esterno all'uomo invece lui ebbe per primo l'intuizione che l'uomo in qualche modo dato che è limitato dai suoi sensi o meglio è caratterizzato dai suoi sensi non può uscire da se stesso e quindi il limite della sua conoscenza è proprio insito nella sua natura e nei suoi sensi quindi diciamo l'idea umanistica nasce proprio con la consapevolezza di protagora che naturalmente poi si fu trasferita a socrate che è poi a platone e così via tutti quanti gli altri grandi filosofi che impararono da protagora questo concetto fondamentale anche nonostante poi le critiche e gli sviluppi che ciascuno applicò a questa teoria ora questa diciamo questa centralità dell'uomo naturalmente venne assorbita anche dalla cultura latina in particolare da dalle rielaborazioni che la cultura latina fece di quella greca quindi cicerone seneca e così via però noi ecco conosciamo questa parola l'umanesimo soprattutto perché attribuiamo questo questa etichetta questo nome a un periodo storico ben preciso che coincide con quella che noi consideriamo la fine del medioevo cioè l'umanesimo non è altro che la quel movimento culturale che nella nostra cultura occidentale mette fine al medioevo ora secondo appunto la definizione che noi conosciamo e che io insomma posso posso assumere anche molto semplicisticamente da un'enciclopedia come può essere la treccani in rete infatti definisce l'umanesimo in questo modo periodo storico le cui origini sono rintracciate dopo la metà del quattordicesimo secolo e che culmina nel quindicesimo secolo tale periodo si caratterizza per un più ricco e più consapevole fiorire degli studi sulle lingue letterature classiche considerate come strumento di elevazione spirituale per l'uomo e perciò chiamati secondo un'espressione ciceroniana studia humanitatis ecco interviene l'interpretazione ciceroniana della centralità dell'uomo che cicerone la prendeva non naturalmente non direttamente da protagora ma dal dallo soecismo al medio soprattutto quindi posidonio il suo maestro ateniese e quindi gli studi a humanitatis cioè gli studi di umanità che sono ecco sono quelli delle lettere generalmente perché secondo cicerone anche uno stratega anche un politico doveva assorbire diciamo così quelli che erano i concetti canoni di una cultura appunto letteraria una cultura che la cultura letteraria una cultura a tutto tondo una cultura che mettesse al centro del suo fuoco di interesse l'uomo con le sue esigenze. Ora la treccana in rete naturalmente poi specifica ancora meglio dice si parla di umanesimo filologico per distinguere nel quattordicesimo e quindicesimo secolo l'attività degli umanisti intesa al recupero allo studio e alla pubblicazione dei testi classici e la loro attività vabbè io taglio ovviamente e cosa invece importante all'elaborazione di una nuova civiltà all'umanesimo filologico che si che intende fondare questa nuova civiltà che si opponeva a quella medievale sia si affianca poi l'umanesimo cosiddetto volgare perché dopo la il trionfo del latino e del greco naturalmente c'è un trionfo della letteratura volgare soprattutto nel cinquecento e nei secoli successivi in cui appunto sono privilegiate le opere nelle lingue volgari quindi in italiano in francese e così via. Ora continua la treccani con riferimento esplicito e implicito all'umanesimo quale periodo storico il termine è usato infine per caratterizzare ogni orientamento che riprenda il senso e i valori affermatisi nella cultura umanistica dall'amore per gli studi classici e per le umane littere cioè le lettere appunto umane alla concezione dell'uomo e della sua dignità quale autore della propria storia punto di riferimento costante e centrale della riflessione filosofica molto importante questo aspetto della dignità perché nel medioevo al centro della diciamo così della spiritualità della vita dell'universo eccetera era posto il dio cioè dio il creatore del cosmo aveva una posizione centrale e l'uomo naturalmente è una è una sua emanazione e naturalmente assume una posizione diciamo così laterale nel e abbastanza diciamo così e marginale rispetto al all'armonia del cosmo invece con l'umanesimo pare che l'uomo acquisisca nuovamente una dignità cioè rappresenta diciamo così la creazione più alta di dio diceva picco della mirandola copula dell'universo cioè tre d'union dell'universo cioè punto tratto di unione fra lo spirito e la materia l'uomo diceva picco della mirandola la possibilità di elevarsi alla natura angelica la natura più alta dello spirito ma anche quella di di scendere sempre più in fondo alla materia e e diciamo così arrivare appunto al alla all'espressione diabolica attraverso l'esercizio del libero arbitrio quindi ricordiamoci anche questo aspetto perché il libero arbitrio tornerà in quello che voglio dire anche in seguito quindi l'umanesimo come movimento culturale è un movimento che nasce come movimento letterario il recupero dei classici latini e greci il recupero dei classici latini e greci rappresentano il recupero di un'umanitas di un'umanità cioè di una centralità dell'uomo che nel medievo si era persa nei confronti diciamo così di una focalizzazione sull'aspetto più spirituale dell'uomo quindi di dio del rapporto fra dio e uomo e l'uomo in una posizione subalterna con l'umanesimo in qualche modo si cerca di invertire questa questa rotta e si pone nuovamente al centro la figura dell'uomo senza perdere di vista però il suo libero arbitrio il suo aspetto spirituale quindi la l'attenzione alla natura invisibile del cosmo di cui l'uomo è parte naturalmente è inutile dire che questa civiltà umanistica che si sviluppa fra quattordicesimo e quindicesimo secolo è un po il fulcro della modernità perché da questo recupero dell'uomo e della centralità dell'uomo vengono fuori poi tutte le concezioni filosofiche dell'età moderna viene fuori il concetto che l'uomo deve deve pensare al benessere della società al benessere degli individui e che l'uomo deve essere proiettato non solo verso verso lo spirito ma anche all'interno della materia perché la vita umana la vita sensibile la vita materiale ha una sua dignità pari a quella spirituale perché attraverso l'esperienza della materia si può diciamo così raffinare lo spirito con diciamo appunto come dicevano gli antichi cabalisti o anche gli alchimisti e che con il loro si prova nel fuoco ora per metafora nella natura umana il fuoco sono le tentazioni della materia le difficoltà della materia e lo sviluppo dell'oro cioè dello spirito si può avere solo con un rapporto diretto e orientato in maniera opportuna con la materia ora però diciamo che dall'umanesimo vengono fuori poi altri diciamo viene fuori l'illuminismo viene fuori il positivismo vengono fuori altri movimenti lo scientismo moderno e contemporaneo cioè diciamo che questo movimento culturale poi man mano finisce per tralignare e per e per prendere delle strade diverse per quanto da un ultimo diciamo un'ultima notazione storica sul movimento perché vorrei vorrei focalizzare l'attenzione di chi ci ascolta sul fatto che questo termine umanismo è un termine abbastanza giovane cioè gli umanisti non sapevano di essere umanisti cioè noi li chiamare li chiamiamo in questo modo ma il termine fu con fu coniato nel 1808 da un pedagogista tedesco che si chiamava friedrich immanuel nith hammer che in un suo volume diciamo sulla pedagogia parlò appunto di umanesimo per recuperare l'importanza nel percorso pedagogico dei ragazzi dello studio delle lingue classiche latino e il greco quindi da quel momento il vocabolo humanismus in tedesco e poi umanesimo in italiano humanismo in francese e così via cominciò a essere utilizzato nei circoli della cultura tedesca e poi fu esportato in tutta Europa in particolare sono famosi ecco i libri che gli studi che portarono questa parola in auge furono quelli del basilese jacob burkhardt che autore del rinascimento in italia un libro che ha avuto un grande successo oppure di un tedesco georg focht che autore di un testo appunto il risorgimento dell'antichità classica ovvero il primo secolo dell'umanesimo quindi ecco da questo diciamo da questi volumi cominciò a trasferirsi poi nella cultura italiana anglosassone fino a partita agli studiosi diciamo del novecento che poi hanno fondato una una scuola di studi che ha portato in auge questo questo movimento va bene comunque questo giusto per per fare luce su questo termine che oggi secondo me riveste una un'importanza notevole per soprattutto per gli sviluppi ora cosa volevo sottolineare vorrei sottolineare il fatto che nell'umanesimo storico quello appunto di cui noi parlavamo lo spirito cioè l'aspetto diciamo così sottile della natura umana l'aspetto invisibile della natura umana è un aspetto fondamentale cioè l'uomo nell'umanesimo non è stato mai distaccato dalla sua natura diciamo così divina evidente che nell'umanesimo del quattrocento del cinquecento ci si faceva riferimento alla cultura di quell'epoca magari noi oggi quando parliamo di spiritualità abbiamo dei concetti che sono più evoluti rispetto a quelli di quell'epoca però diciamo che è molto importante anche notare che la la filosofia umanistica conta dei personaggi come Tommaso Campanella come Giordano Bruno personaggi che per le loro idee spirituali che contrastavano quelle diciamo così teologiche della chiesa ed erano definite retiche hanno anche sofferto tantissimo Campanella è stato per più di trent'anni in prigione Giordano Bruno ha pagato con la vita il suo non volersi piegare a certe ideologie che non gli appartenevano e tutti sappiamo che Galileo Galilei un umanista scienziato ha dovuto poi abbiurare per salvare la vita ma comunque ecco quindi tutto questo per specificare come parte integrante del nostro umanismo cioè di questa radice culturale dell'Europa sia legato all'aspetto sottile della natura umana l'invisibile. Ora noi oggi viviamo in un mondo che per lo più è ateo, un mondo che per lo più è antispirituale però io non voglio diciamo così inclinare né verso l'una parte né verso l'altra perché ognuno di noi è libero di credere quello che più gli aggrada però vorrei dire una cosa cioè in fondo oggi anche la fisica la fisica quantistica riconosce nell'universo l'esistenza di realtà oscure cioè il 90% di ciò che esiste nell'universo è quella che viene chiamata volgarmente la materia oscura e quindi il 90% delle leggi dell'universo a noi sono ignote. Noi diciamo il 90% per definire semplicemente una grandissima quantità cioè è molto più quello che noi non sappiamo di come funzionino le cose intorno a noi che quello che noi sappiamo quindi diciamo che quello che noi possiamo definire natura sottile dell'uomo, natura sottile delle cose, del cosmo cioè probabilmente sta nascosta proprio in questo 90% di cose che noi non conosciamo e che diciamo così con una sicumera e con una presunzione pretendiamo a volte di ignorare ma comunque ecco fatta questa premessa e quindi anche gettato questo piccolo dubbio nel nostro atteggiamento nei confronti di ciò che ci circonde anche nei confronti di noi stessi vorrei passare a una seconda parte di questa mia conversazione che è legata in particolare a un libro che casualmente stavo leggendo in questi giorni un libro che è stato scritto da Yuval Noah Harari che si intitola Homo Deus, breve storia del futuro pubblicato da Bonpiani nel 2017 Yuval Noah Harari è conosciuto probabilmente a gran parte insomma del pubblico che ci sta ascoltando perché è uno dei diciamo così dei teorici dell'umanesimo moderno di quello che viene definito anche transumanesimo o postumanesimo e naturalmente in questo volume gli spiega con un'enorme chiarezza un'enorme con molta come posso dire con chiarezza di lingua e di logica che cosa è diciamo così l'atteggiamento di un certo tipo di uomo moderno nei confronti dell'uomo e della sua funzione sulla terra e nei confronti degli altri uomini ecco io quindi vorrei in qualche modo partire da questa mia lettura che mi ha interessato ma in qualche modo mi ha anche inorridito perché in una diciamo così in una dialettica apparentemente diciamo così inoppugnabile lì sono nascosti dei diciamo così dei sofismi molto molto sottili che impediscono al lettore più meno diciamo così meno pronto a meno culturalmente ferrato impediscono a questo lettore di capire poi esattamente cosa c'è alla base ora non so se per omissione nelle sue affermazioni spesso vengono dimenticate casualmente trascurate delle cose che poi potrebbero essere anche banali ma che potrebbero portare il ragionamento da tutt'altra parte comunque cosa dice questo signore la cui lettura devo dire è interessante io credo che vada fatta perché comunque è un testo col quale si deve confrontare l'umanesimo egli cerca di definire diciamo così l'espressione umanesimo e naturalmente lui si riferisce all'umanesimo moderno quindi questa che è una diretta filiazione di quello di quello diciamo così storico ma che passa attraverso l'illuminismo e il positivismo e lo scientismo ecco non dimentichiamoci di una cosa illuminismo positivismo scientismo hanno sempre hanno finito per guardare all'uomo come a un meccanismo e al cosmo come a un grande orologio cioè a una macchina e quindi queste dottrine in realtà non tengono conto per lo più di quel 90% di materia oscura che gestisce quello che noi vediamo cioè quel 10% che affiora ai nostri sensi alla nostra sensibilità alla nostra conoscenza quindi tutto questo tralignare dell'umanesimo che arriva fino a oggi in realtà tiene conto di uno stagno soltanto della superficie e vede soltanto le bolle che le rane fanno poi sotto quando respirano e non tiene conto di tutta la profondità dello stagno e forse spaventa anche a loro la parte oscura sì probabilmente sì è una parte che non vogliono assolutamente considerare perché perché si parte dal presupposto ecco che dato che il cosmo è un meccanismo dato che l'uomo è un meccanismo di cui non si vuole conoscere alcun aspetto che non si può appunto afferrare con il ragionamento e con la ragione si dice che appunto l'universo e in particolare l'uomo può fare a meno di Dio e il mondo può andare avanti anche senza gli imperativi che erano posti dall'etica al cui centro c'era naturalmente il libro sacro e le proibizioni di un Dio vendicatore su questo siamo perfettamente d'accordo con Arari e con gli umanisti moderni perché il cosmo e l'uomo effettivamente anche secondo me possono fare a meno di Dio in questo senso perché non è Dio con le sue proibizioni che deve muovere le attività umane ma naturalmente deve essere qualcosa di diverso qualcosa che sicuramente deve partire dall'interno ma questo era noto già a Kant con l'imperativo categorico con la sua critica della ragion pratica ha gettato le fondamenta di quella che è l'etica moderna cioè l'uomo deve fare a meno di Dio non deve negarne l'esistenza ma deve fare a meno perché la sua etica deve partire dall'interno e su cui siamo d'accordo però ecco Arari dice qualche cosa di più cioè dice che in realtà l'umanesimo è la nuova religione cioè si sostituisce alla religione antica che è crollata di fronte ai dubbi materialistici della scienza per cui lui dice che l'umanesimo ha dato un senso alla vita in un mondo che ha cominciato a fare a meno di Dio cioè lui dice che se non esistesse l'umanesimo il mondo sarebbe nella più totale confusione perché nel momento in cui l'uomo diventa ateo e nel momento in cui l'uomo non crede più alle proibizioni di un Dio vendicatore naturalmente nella società chiunque potrebbe fare qualsiasi cosa e quindi l'umanesimo in questa nuova fede ha impedito che la società crollasse nella confusione più totale ora quindi per l'umanesimo moderno l'uomo ricoprirebbe quel ruolo che aveva Dio nelle grandi religioni rivelate cioè l'uomo si sostituisce a Dio perché nella tradizione, nella visione tradizionale della storia della religione il grande piano cosmico di Dio dava naturalmente un senso alla vita degli uomini cioè c'era la realtà terrena, la realtà oltraterrena bisognava fare con piacere il Dio creatore per poter arrivare alla salvezza quindi al paradiso ora l'umanesimo invece capovolge questi ruoli e pretende che l'esperienza umana dia un senso al cosmo cioè non è più il cosmo con Dio, creatore del cosmo che dà un senso all'esperienza umana bensì è l'esperienza umana che dà un senso al cosmo qui si ritorna naturalmente all'origine dell'umanesimo cioè l'uomo come misura di tutte le cose e questo ci potrebbe trovare anche in qualche modo d'accordo sempre che però si tenga conto di quel famoso 90% che non si percepisce ovviamente ma questo diciamo dell'umanesimo moderno e contemporaneo non è naturalmente contemplato quindi l'esperienza umana dovrebbe dare un senso a un mondo che ne è privo in quanto generato dal caso cioè questo è il centro dell'umanesimo moderno in questo universo senza Dio le cose nascono dal caso cioè nascono per l'incontro casuale di atomi di microparticelle e tutto quello che noi vediamo intorno a noi compresi noi stessi saremmo frutto di una casualità beh io dico sempre sinceramente per sventare questo dubbio una cosa così banale che però potrebbe essere diciamo così interessante se noi prendiamo dei legumi vari prendiamo un barattolo di vetro e mettiamo due dita di lenticchie due dita di fagioli due dita di ceci due dita di piselli due dita di altri semi e così via abbiamo un barattolo in cui ci sono tante fasce colorate diverse prendiamo questo barattolo e cominciamo ad agitarlo cosa accade? accade che i semi si confondono tutti quanti secondo le regole del caso ebbene noi potremmo agitare questo barattolo per l'eternità i semi non ritorneranno mai più nella posizione originaria con le loro brave fasce colorate se non c'è un'intelligenza che svuota questo barattolo e ritorna a separare tutti questi semi e crea le fasce in realtà il caso non riuscirebbe mai a riportare l'ordine originario quindi le persone che pensano che tutto quello che esiste intorno a noi con il suo equilibrio la grandezza anche della nostra stessa esistenza sia dovuto al caso secondo me non hanno mai fatto questa esperienza così banale che possono fare a casa loro facessero prima questa esperienza vedano un po' quanto tempo devono stare a agitare il barattolo e poi ne riparliamo comunque prima allora nell'autorità di Dio c'era il senso delle leggi e della morale nell'umanesimo moderno il senso della legge e dell'etica si deve cercare altrove si deve cercare ecco secondo l'umanesimo moderno quindi questa questa teoria moderna che ripeto è diversa da quella storica si deve cercare nei sentimenti degli uomini secondo un imperativo che è quello di non arrecare ad altri la sofferenza che non vorremmo per noi il che possiamo anche accoglierlo effettivamente l'umanesimo cioè ponendo al centro la sensibilità umana giustamente dice l'uomo deve considerare che è giusto tutto quello che non leda la sensibilità di un altro essere senziente quindi in questo potremmo essere tranquillamente d'accordo però qui poi ci sono delle situazioni che sfociano in altro intanto in questa visione umanistica diciamo che viene vengono fatte anche delle distinzioni perché secondo appunto questi intellettuali l'umanesimo si potrebbe dividere in filoni per esempio c'è un filone che il suddetto Arari definisce ortodosso rispetto ad altri che è il cosiddetto umanesimo liberale o liberismo che si opporrebbe diciamo così a un umanesimo socialista e a un umanesimo evoluzionista ma che cosa stiamo dicendo in che cosa consisterebbe l'umanesimo liberale o liberismo e nell'umanesimo liberale o liberismo ogni essere umano è un individuo unico con le sue esperienze e quindi per questo deve avere la libertà di svolgere le proprie esperienze e la libertà e il diritto di svolgere queste esperienze deve essere più importante degli interessi dello Stato addirittura quindi praticamente nel liberismo l'individuo è al centro di tutto e la sua libertà è fondamentale sempre fatta salva la legge che questa sua libertà non debba ledere l'interesse e diciamo così la sensibilità dei suoi simili invece gli altri due filoni nell'umanesimo socialista che poi si potrebbe identificare con il comunismo storico vince naturalmente di fronte all'individuo vince la società cioè il collettivismo cioè l'umanesimo è diciamo così è interpretato dal punto di vista della collettività degli uomini quindi la collettività con l'interesse della collettività ha più importanza del singolo individuo mentre invece l'umanesimo evoluzionista prende le origini dal pensiero di Darwin o meglio dei darwinisti cioè del mondo che è venuto fuori con la selezione naturale e in questa visione dato che nella storia della biologia e quindi anche dell'uomo la natura ha fatto in modo che vincesse il migliore il più adatto il più quello che potesse avere il sopravvento sugli altri diciamo che in questo caso vincerebbe il più forte il migliore e questo sarebbe l'umanesimo portato avanti dai fascisti e dai nazisti cioè i nazionalisti quelli che vedono nella vittoria del migliore quello che deve avere poi la leadership sulla supremazia su tutti quanti gli altri altrimenti cioè da questo punto di vista la società l'uomo stesso non potrebbe migliorare non potrebbe mai evolversi se bisogna mantenere sempre il passo con quelli che non sono i migliori quindi queste due visioni quella socialista e quella evoluzionista ritengono che la visione liberale dell'esperienza umana sia fallace e perciò essa questa esperienza non deve essere un fenomeno individuale ma deve essere legato alla collettività umana o all'uomo inserito all'interno di una natura che preserva delle leggi che l'hanno portata diciamo così a evolvere beh ora vediamo un po' dato che oggi come oggi l'umanesimo liberale è quello che sembra avere maggiore successo è quello che diciamo così è quello che viene più discusso rispetto agli altri vediamo però come sintetizza in maniera anche abbastanza interessante a Rari in cinque punti diciamo così il pensiero umanistico liberale e che mi pare di poter seguire per spiegare poi questo fenomeno al punto 1 egli pone la politica umanista cioè l'elettore sa cosa è meglio cioè la libertà la democrazia è calata nella volontà nella libertà dell'elettore quindi l'elettore sa cosa è meglio quindi andando a votare esprime la sua libera scelta e quindi la maggioranza di chi esprime libera scelta poi voterà qualcuno poi c'è l'economia umanista cioè che si può riassumere molto brevemente poi ne parleremo meglio il cliente ha sempre ragione cioè l'utente ha sempre ragione poi vediamo questo che cosa comporta poi c'è l'estetica umanista cioè la bellezza è nell'occhio di chi osserva quindi non è un fatto oggettivo ma è un fatto culturale poi c'è l'etica umanista se qualcosa ti fa stare bene fallo molto interessante poi dovremo un attimo commentare questo aspetto e poi c'è il quinto punto la pedagogia umanista pensa con la tua testa contro il principio di autorità almeno teoricamente questo poi è un principio che ha fatto anche l'umanesimo storico perché contro l'autorità di Aristotele nel medioevo l'umanesimo si è contrapposto proprio la nascita dell'umanesimo nasce proprio per combattere l'autorità e per invece valorizzare il principio che è anche il nostro principio scientifico della sperimentazione della ricerca della cultura però adesso dobbiamo poi un attimo fare dei piccoli commenti su questi punti per quanto riguarda la politica quindi l'elettore sa che cosa è meglio qui c'è un problema perché i sentimenti umani sono sottoposti a mio avviso a una sorta di labilità e poi perché? perché possono essere facilmente manipolati e guidati cioè quello che Arari non mette in luce è che esiste la propaganda esiste una differenza culturale tra gli elettori esiste la possibilità che il denaro può generare di costruire una propaganda capillare che anche attraverso delle diciamo delle manipolazioni sottili ritorniamo ancora una volta a una mia idea fissa quella della programmazione neurolinguistica può fare sì che le persone in qualche modo siano orientate a fare una cosa piuttosto che un'altra in qualche modo bypassando quello che è il libero arbitrio ma poi c'è anche un'altra cosa lo stesso Arari più avanti nel suo volume parla espressamente della fallacia del libero arbitrio cioè sostiene che il libero arbitrio non esiste allora questo primo punto cioè l'elettore sa cosa è meglio se non c'è il libero arbitrio come lui poi dice più avanti che senso ha all'interno di questo principio umanistico quindi ecco vediamo che già all'interno di questa teoria ci sono dei punti deboli perché se non esiste il libero arbitrio perché noi siamo frutto di 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 reazioni chimiche che avvengono all'interno del nostro sistema nervoso e queste reazioni chimiche dipendono dalla reazione di elementi chimici bla bla tutta una serie di di cose alla fine no ma cioè l'elettore come può scegliere liberamente chi è meglio secondo lui e quindi già abbiamo visto una prima falla all'interno del sistema ma vediamo anche ci sono delle falle anche per quanto riguarda l'economia umanistica il cliente ha sempre ragione cioè si dice che diciamo in questo umanesimo esiste il libero mercato e quindi il consumatore con i suoi bisogni e con i suoi orientamenti ha sempre ragione ma anche in questo caso non si considera il fatto che il giudizio del consumatore non è sempre legato alla qualità e al bisogno che si ha di un oggetto ma è orientato molto spesso subito la mente dalla propaganda e dalla pubblicità in sostanza innanzitutto nella nella creazione di bisogni che non che non esistono realmente poi spesso il consumatore è orientato a consumare un prodotto piuttosto che un altro semplicemente se una casa produttrice ha maggiori possibilità di fare una propaganda più capillare quindi ancora una volta ci scontriamo con il problema del libero arbitrio che è negato dal nostro intellettuale umanista ma che diciamo può essere purtroppo devo dire pilotato abilmente soprattutto quando il consumatore non ha gli strumenti adatti ma spesso anche quando ha strumenti sottili oggi le persone più strumentalizzate sono quelle medio-altamente colte sono quelle che credono di essere libere e invece vengono manipolate più subdolamente comunque questo è un altro discorso ora il problema è un altro ma se il prodotto è un'auto il problema etico è minimo perché investe il rapporto fra produttore e consumatore quindi io scelgo un'auto piuttosto che un'altra mi lascio manipolare scelgo quell'auto piuttosto che un'altra magari il problema etico potrebbe essere quella magari legato al green tutto sommato che oggi ha una certa fortuna ma più di questo no ma se il prodotto non è un'auto ma è rappresentato per esempio da carne da uova latte la richiesta del consumatore o il prezzo che è disposto a pagare si scontra con dei problemi etici cioè per esempio la sofferenza di esseri senzienti la crudeltà che viene operata nei loro confronti per aumentare la produzione e diminuirne il prezzo le manipolazioni genetiche che comunque richiedono delle sperimentazioni spesso crudeli oppure che ne so nei cosmetici ci sono delle conchiglie dei nautilus che vivono da milioni di anni sulla terra che sono sottoposte a sofferenze incredibili per ricavarne diciamo così dei prodotti che poi servono nella cosmesi per togliere qualche ruga che poi alla fine moriamo lo stesso e tutti quanti finiamo sottoterra quindi per guadagnare diciamo così una freschezza che poi manco esiste ma quindi in casi del genere i sentimenti umani cioè la scelta cioè io voglio comprare quella carne a un prezzo minore da quel produttore piuttosto che no per me va bene che vengano fatte sperimentazioni per poter pagare un prodotto a un prezzo minore non possono essere un punto di riferimento etico perché ecco noi poniamo l'uomo al di sopra di una catena di entità senzienti senza che noi ne abbiamo diciamo così l'autorità cioè chi ci dà l'autorità di governare gli altri esseri viventi allora ecco che ritorniamo gli umanisti moderni che negano il valore dei libri sacri della Bibbia in realtà in questa governance dell'uomo rispetto a tutti gli altri animali alla fine arrivano sempre alla Bibbia dove Dio dà all'uomo la padronanza dell'Eden e il governo di tutti gli altri animali gli uccelli e i pesci mi si dirà no ma questo fa parte dell'evoluzione perché se l'uomo sapiens è arrivato al colmo dell'evoluzione vuol dire che comunque è superiore agli altri ma allora siamo fascisti o nazisti cioè siamo liberali o siamo appunto umanisti evoluzionisti cioè quest'idea è un po' traballante e quindi i profitti che possono fare delle aziende spesso sono abilmente monitorati e guidati subliminalmente ma andiamo all'altro imperativo cioè c'è il problema dell'arte no? aspettate un attimo ecco avevo perso la mia scala i miei punti l'estetica la bellezza è nell'occhio di chi osserva questo è così si apre la strada a qualsiasi tipo di mistificazione e al culto del brutto e della disarmonia perché la bellezza non può stare solo nell'occhio di chi osserva perché quell'occhio può essere influenzato da una serie di considerazioni che trascendono il senso dell'oggetto del bello e contaminano inquinano il giudizio cosa voglio dire voglio dire che se per esempio noi andiamo a vedere una mostra di arte moderna e c'è tutta una serie di critici che osannano un certo prodotto di un certo artista è bellissimo questo è il como dell'arte e così via noi potremmo essere intimoriti diciamo così dall'esperienza dalla notorietà di chi giudica del critico che fa le sue considerazioni e finire per accettare come bello un prodotto che poi sotto sotto non ci piace per non fare brutta figura semplicemente quindi ancora una volta noi siamo manipolati dall'esterno una volta che si neghi l'oggettività del bello come dipendente dal rispetto di una serie di leggi armoniche in accordo con la natura del cosmo e con le sue stesse leggi possiamo anche essere indotti a confondere il bello con l'utile o a non riuscire più a giudicare liberamente il bello e il dominio stesso dell'arte cosa voglio dire voglio dire che il nostro occhio percepisce naturalmente il nostro occhio è naturalmente anche ciò che giudica cioè quindi il nostro cervello percepisce naturalmente come bello ciò che risponde per esempio ai canoni della sezione aurea la sezione aurea è una legge è un rapporto che esiste in tutte le cose dell'universo esiste nel moto dei pianeti esiste nella biologia esiste nei frattali esiste è una delle leggi che governano il nostro universo almeno quello che noi conosciamo ebbene tutte le cose che ci piacciono di più tutte le statue più belle tutti i dipinti più belli tutto ciò che ispira la nostra arte anche la musica stessa non può fare a meno di questa legge se noi andiamo a studiare andiamo a smembrare andiamo a vedere che cos'è che esiste all'interno delle opere che piacciono di più in assoluto nel campo dell'arte tutte queste opere rispondono almeno a questa legge quindi io credo che non sia vero che il giudizio del bello sta nell'occhio di chi vede perché ma questo è anche ancora una volta torniamo a fattori empirici ricorderei ricorderemo sicuramente tutti un episodio che è accaduto qualche tempo fa alla Biennale di Venezia c'era fra le esposizioni c'era un allestimento in cui c'erano delle bottiglie dei bicchieri rotti per terra che volevano rappresentare naturalmente forse la fine di una festa la fine di un mondo qualsiasi cosa io non voglio togliere diciamo così valore espressivo a una cosa del genere però se vogliamo poi parlare di valore artistico il valore artistico è stato chiaramente interpretato dalle signore delle pulizie che un bel giorno vanno lì e raccolgono via tutto e lo buttano via cioè loro non hanno riconosciuto quell'allestimento come opera d'arte ma come sporcizia allora se noi vogliamo dire che quell'allestimento voleva esprimere qualche cosa siamo d'accordo poteva esprimere la fine di un mondo la fine di una festa potrebbe anche essere la fine del mondo occidentale per carità benissimo però se vogliamo attribuire il valore di arte e di bello a quella forma espressiva su questo non siamo assolutamente d'accordo e quindi questa è una cosa che va considerata ma alla fine ecco in questo ecco poi c'è da dire cose un poco poco più sensibili l'etica umanistica se ti fa stare bene fallo la vogliamo commentare questa cosa o è utile o inutile ma ritorniamo a quel concetto dell'economia obiettivamente noi dobbiamo fare le cose che ci fanno stare bene però le cose che ci fanno stare bene non devono collidere con quello che è l'interesse quello che è l'incolumità quella che è la diciamo così la vita degli altri noi in questi giorni abbiamo nella cronaca insomma da cui siamo stati tutti quanti bombardati abbiamo visto tante cose non voglio ripeterle perché tanto sono note a tutti che ci hanno fatto capire che non si può fare tutto ciò che ci fa stare bene tutto ciò che vogliamo perché a volte questo può porre fini a delle vite innocenti bisogna rispettare degli equilibri bisogna rispettare degli equilibri quindi nell'etica noi dobbiamo avere certo non voglio non voglio riferirmi a un dio giudice che 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 dice se fai questo vai all'inferno ma l'inferno alla fine sì io posso anche ammettere che il paradiso e l'inferno stanno dentro di noi ma il paradiso e l'inferno possono stare dentro di noi nel momento in cui siamo consapevoli di ciò che una nostra azione può comportare per noi per gli altri il nostro prossimo cioè quelli che ci stanno vicini e per la società nella quale viviamo e anche per tutti gli altri esseri senzienti per l'equilibrio che la natura ha impostato su questo meraviglioso pianeta azzurro che è veramente un'opera di meraviglia che non può dipendere dal caso e quindi non vorrei soffermarmi troppo su questo aspetto perché penso che sia chiaro a tutti quanti se sì io potrei avere il desiderio per realizzare me stesso di fare durante la notte le corse delle corse sull'autostrada con una macchina a luci spente sulla sulla corsia che non mi compete sull'altra ma questa corsa sì potrà realizzare qualcosa di me voglio anche volermi suicidare ma quello contro cui vado a sbattere voleva anche egli suicidarsi probabilmente no e quindi non si può fare tutto quello che si vuole ma il nostro arbitrio diciamo finisce laddove comincia la libertà di un'altra persona e quindi dobbiamo comunque rispettare gli altri e in questo poi andiamo al quinto punto quello della pedagogia di umanista pensa con la tua testa siamo d'accordissimo niente di più giusto però il sofisma dell'umanismo moderno e contemporaneo è che mentre afferma questo principio poi naturalmente cerca di imbonire con delle tecniche di persuasione le persone a pensare cose assurde come quelle che abbiamo visto fino a questo momento è vero il principio di autorità va interrotto però appunto oggi per esempio se qualcuno dice qualcosa che vada contro il mainstream o certi tipi di pensiero il famoso pensiero unico che è quello dell'umanesimo liberale viene zittito perché non ha il diritto di parlare allora il principio di autorità esiste o non esiste cioè che cosa significa libertà libero arbitrio quindi per quanto riguarda poi questo problema ecco il libero arbitrio la negazione del libero arbitrio questo collima diciamo così per affrontare questo discorso dobbiamo dobbiamo cominciare a parlare delle soluzioni altrimenti non riusciamo a capire ecco noi siamo partiti dal discorso siamo in un'Europa che ha delle radici queste radici ecco le abbiamo visto l'umanesimo l'umanesimo si è trasformato nel tempo ed è arrivato all'umanesimo moderno e contemporaneo liberale il liberalismo che vuole sostituirsi a tutte le altre ideologie perché sarebbe la migliore di tutte ma intanto questo è un principio di autorità quindi va contro lo stesso principio della pedagogia umanista che sarebbe quella della distruzione del principio di autorità e poi contro tutti questi principi va l'umanesimo si esprime anche con l'affermazione che non esiste un libero arbitrio noi saremmo frutto saremmo delle macchine che agiscono in rapporto a delle come diciamo così con delle risposte a delle sollecitazioni quindi tutto ciò che noi facciamo diciamo pensiamo proviamo non sarebbe altro che una risposta automatica a una sollecitazione a una serie di sollecitazioni che svilupperebbero delle tempeste ormonali dei flussi di elettroni che vanno a cogliere dei particolari gangli nervosi che portano poi naturalmente alla nostra decisione ora io non voglio dire che tutto ciò che studia la medicina la biologia la neurobiologia non sia vero questo è tutto vero ma queste scienze umane che considerano il corpo una macchina studiano il come cioè come avviene ed è bellissimo questo è utile fondamentale importante perché ci può portare veramente a una maggiore consapevolezza però quello che manca in queste discipline è l'attenzione al perché perché questa è una domanda che dobbiamo sempre porci è il perché ha a che fare con il libero arbitrio ha a che fare con la coscienza cioè noi non siamo una macchina perché dentro di noi oltre a tutta questa serie di 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 reazioni chimiche di di fattori ormonali neurobiologici c'è qualche cosa di come dice Federico Faggin di inafferrabile e di irriducibile che è la coscienza quando noi togliamo quando noi togliamo tutto ciò che si sovrappone alla fine cosa rimane? rimane il nostro io gli umanisti moderni questa cosa cercano anche di discuterla perché attraverso lo studio della neurobiologia fanno tutta una disamina di quello che dentro di noi dice io chi dice io? noi in realtà non siamo unitari dentro di noi c'è tutta una serie di individualità che dicono io cioè c'è il il nostro io ancestrale il nostro cervello diciamo così rettile che vuole salvare solo la vita anche a costo di quella degli altri poi c'è qualche cosa di più evoluto c'è magari ci sono quelli che sono dentro di noi chi è che sceglie realmente c'è l'io più acculturato l'io più emozionale diciamo che però la coscienza è al di fuori di tutto questo la coscienza è al di là al di sopra di tutte queste di queste cose il libero arbitrio cioè la libera decisione del nostro io sta proprio nella capacità che noi dobbiamo sviluppare di ritrovare in tutta questa congerie di manifestazioni di voci che vivono dentro di noi e che sembra che ci appartengono ma potrebbero anche in parte non appartenerci perché molti di noi c'è la schizofrenia per esempio a volte sono personalità veramente separate che esistono dentro di noi ma non bisogna essere schizofrenici per assistere a queste separazioni perché ciascuno di noi può sperimentare dentro di sé questa separazione ecco ma al di là di tutte queste separazioni esiste un'unità che viene fuori quando tutto il resto viene annullato per esempio attraverso la meditazione trascendentale rimane solo la coscienza quello il nostro io puro quello che è al di là di tutto e che sì potremmo anche definirlo diciamo identificarlo con una divinità cioè quello che la coscienza è quella che poi ha sviluppato tutto questo sogno il cosmo il respiro di Brahma secondo gli hindù giusto per una metafora ora ecco come allora dobbiamo comportarci nei confronti di tutto questo quale può essere la nostra bussola intanto c'è da dire una cosa non si può in nessun modo tornare indietro nel tempo la storia va avanti la scienza va avanti ed è giusto che sia così quindi tirarsi i capelli strapparsi le vesti di dire oggi viviamo in questo mondo corrotto dove non c'è più una bussola no niente di tutto questo questo è sbagliato dobbiamo innanzitutto accettare la diciamo così i progressi della scienza l'intelligenza artificiale i progressi della neurobiologia i progressi cioè tutto ciò che può rendere la vita migliore però ecco mantenersi al passo coi tempi significa anche adattare queste scoperti adattare questa evoluzione dell'umanità con i principi basilari dell'etica e della coscienza ma per fare questo noi dobbiamo innanzitutto riconoscere la coscienza altrimenti l'umanesimo moderno ci porterà verso una società in cui le persone più ricche potranno garantirsi una giovinezza prolungata potranno garantirsi una vita che potrebbe arrivare anche a 150 200 anni potranno garantirsi una genetica privilegiata per i loro figli potranno garantirsi una 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 gestazione extrauterina ahimè per non rovinare il loro preziosissimo corpo che potrebbe fare delle rughe o delle smagliature ma questo a quale prezzo? al prezzo dello sfruttamento dei più deboli di quelli che non raggiungono una certa una certa un certo livello di ricchezza attraverso lo sfruttamento di persone che hanno bisogno di denaro per sopravvivere attraverso lo sfruttamento dei più deboli e quindi ecco l'umanesimo questa visione dell'umanesimo passa facilmente poi nel transumanesimo in questa visione del mondo in cui l'uomo si evolve ma a scapito dell'uomo stesso cioè un uomo che si che nega il suo valore diciamo così tra virgolette spirituale il suo valore diciamo così il valore di quella parte nascosta cioè perché dentro di noi esiste il 90% che non è percettibile ma esiste dentro di noi è quella coscienza che noi non percepiamo perché non abbiamo l'educazione a percepirla noi non abbiamo l'educazione a capire l'impercettibile che esiste è impercettibile perché i sensi normalmente non lo percepiscono eppure se noi sviluppiamo la nostra sensibilità ai nostri sensi piano piano e noi riusciamo a percepire sempre maggiori aree di questo impercettibile magari non tutto il 90% ma una piccola area che ci permette di capire che esiste realmente questo impercettibile che dobbiamo sviluppare dobbiamo conoscerlo perché il vero umanesimo sta nel conoscere di noi stessi quello che ancora non conosciamo non nell'ibridarci con le macchine per sviluppare delle potenzialità da Robocop perché non è questo questo io non lo nego in assoluto può essere utile però ecco alla fine viene sviluppato per fare guerre non per migliorare il benessere dell'uomo viene sviluppato per schiacciare ancora di più quelli che oggi sono i deboli quelli che devono lavorare nelle miniere di Colton per intenderci e allora dov'è l'attenzione per l'uomo se noi possiamo ammettere che esistano degli uomini che vanno a lavorare nelle miniere bambini che muoiono prima di raggiungere l'età adulta perché noi abbiamo bisogno del Colton quindi è importante secondo me ecco per muoverci in questa selva e che ciascuno di noi sviluppi questo aspetto cioè intanto l'aspetto cioè la fede non in un dio non necessariamente in una spiritualità ma la fede nell'esistenza dell'invisibile che poi non è una fede perché questo invisibile è stato anche teorizzato cioè la fisica ce lo dice che esiste ma crediamoci nell'esistenza di questo invisibile e cerchiamo di scoprirlo e cerchiamo di capire che cos'è che ci muove dall'interno senza che noi ce ne accorgiamo prima di essere mossi dall'oschi i figuri che vogliano il nostro consenso quindi il nostro il nostro libero arbitrio per dire che poi il libero arbitrio non esiste non so se rendo l'idea e come è una cosa molto importante quindi valutare opportunamente il significato del libero arbitrio nell'etica per lo sviluppo di un'etica che sia veramente umanistica e non umanista nel senso degli intellettuali moderni quindi dei post-umanisti e dei trans-umanisti ecco quindi secondo me ancora una volta arriviamo sempre all'unico punto possibile ciascuno di noi al di là di questi manigoldi che vogliono avere diciamo l'assenso del nostro libero arbitrio negandocelo ma allo stesso tempo manipolandolo noi dobbiamo rispondere con con la cultura dobbiamo rispondere con un'attenzione ai valori del bello della vita spirituale e cercare di capire che non è vero che non esiste il bello non è vero che non esiste il bene nel nostro mondo che è un mondo dialettico esiste il bello come esiste il brutto esiste il bene come esiste il male è la base della nostra vita è la base del nostro universo cioè il nostro universo dobbiamo farci una ragione è dialettico e quindi un assoluto non esiste per noi non è attingibile e quindi di fronte a questa a questa opposizione di contrari noi siamo chiamati ogni giorno a prendere delle posizioni e queste posizioni sono determinanti e se noi assumiamo delle posizioni corrette nella nostra vita quotidiana ma anche nel piccolo queste cose assumono poi a macchia d'olio un significato a livello anche diciamo così globale e quindi si riesce anche a vivere meglio e a pilotare meglio quelle che sono anche le strutture della politica internazionale perché al di là del PNRR dei nostri soldi che vengono convertiti in armi in guerra in distruzione cioè c'è anche la nostra quotidiana scelta che forse è più comoda di dire sì dove vorremmo dire no e di trovare delle scuse a dire sì o a farci persuadere a dire che in fondo ma poi questa piccola scelta che importanza ha il mondo va in quella direzione no il mondo non va in nessuna direzione se noi non lo facciamo andare in una direzione perché la direzione del mondo è data dal libero arbitrio di ciascuno di noi quindi dall'attenzione che noi abbiamo nel nostro quotidiano a tutte le piccole cose alle piccole scelte che noi facciamo e questo si può raggiungere soltanto con un'attenzione a questi valori a quelli che sono i valori fondanti del nostro mondo occidentale che noi abbiamo pare che abbiamo dimenticato che poi sono i valori fondanti non solo del nostro mondo occidentale ma di tutte le culture del mondo ognuna l'ha sviluppati in un modo diverso e per carità va bene questo pluralismo è giusto che nel mondo ci sia perché il mondo non può essere multipolare non può essere unico ma diciamo che se noi vediamo e cerchiamo di riconoscere questi valori ci rendiamo conto che sono gli stessi dappertutto che dappertutto diciamo così non può essere unipolare volevi dire no scusa forse mi sono non può essere unipolare deve essere multipolare e quindi di fronte a questo dobbiamo ogni giorno operare le nostre scelte ma queste scelte le possiamo operare consapevolmente solo nel momento in cui acquisiamo una capacità che deve essere coltivata di riconoscere il giusto il bene il bello attraverso l'opposizione degli opposti e riconoscere il valore e la possibilità di avere un libero arbitrio e di combattere quelle persone che si servono di noi per i loro lo schi scopi cioè per guadagnare sempre di più e per ecco per cercare per fare per vivere 200 anni mentre noi dobbiamo camparne 20 perché dobbiamo lavorare nelle miniere o nelle nelle fabbriche e non possiamo dobbiamo essere uomini in misura minore eh no cari l'umanesimo non è questo l'umanesimo deve deve essere la dignità di tutti non la dignità solo di un'elite io la penso così sì assolutamente sono d'accordo grazie possiamo anche dire per concludere Giuseppe forse che siamo responsabili delle nostre scelte dobbiamo dobbiamo dare peso alla nostra responsabilità non possiamo eh lasciare che tutto sia casual appunto negare l'esistenza del libero arbitrio vuol dire negare l'esistenza di una responsabilità è una cosa molto sottile questo vuol dire scardinare quello che è il principio di responsabilità e quindi non a caso si 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 teorizza questo perché nel momento in cui abbiamo ci fanno credere che non abbiamo libero arbitrio per noi tutto quello che facciamo eh mica è colpa nostra lo facciamo perché 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 così è così è la natura e no non è così noi abbiamo delle responsabilità delle precise responsabilità nei nostri confronti e nei confronti di quelli che vivono insieme con noi su questo pianeta esseri a vari livelli di evoluzione quindi siamo responsabili nei confronti di tutto grazie grazie per il messaggio Giuseppe grazie molte e ci risentiamo presto perché abbiamo bisogno insomma di chiarire le idee anche su sulla questione su queste questioni anche storiche di noi stessi e del nostro mondo per capire meglio dove andare nel futuro sì ok grazie sì sono disponibile in qualsiasi momento per per ulteriori approfondimenti grazie a voi grazie grazie a voi che ci avete seguito e ripeto l'appello abbiamo bisogno del vostro sostegno e della vostra partecipazione che potete darci dal nostro sito web a cui vi chiedo di iscrivervi perché lì trovate sempre tutto quello che pubblichiamo e dalla pagina web www.casadelsone.tv bada sostienici potete sostenerci in più modi con un abbonamento o con un contributo o con un contributo grazie per essere stati con noi e arrivederci alla prossima volta grazie a tutti